Ciao, io sono Manuela e sono un'insegnante di danza. Sono qui oggi per farvi un po' di compagnia. Vorrei fare degli esercizi semplicissimi di danza e unirli a degli esercizi che fanno bene al corpo e alla mente. Quindi, se siete pronti, possiamo cominciare. Io resto a casa in forma, quindi iniziamo con qualche esercizio. Diverchiamo le gambe, braccia su un bel respiro e andiamo verso l'alto, su verso il soffitto. Allungo, tirando su le spalle. Allungo, su, su. Lascio cadere le braccia, giù e torno su. Giù, torno su, giù, torno su. Ripeto l'esercizio. E, su. Lascio cadere le braccia. Giù, su, giù, su, giù. E rimando lateralmente. Allungo di lato, spostando il busto, solo il busto. Potete piegare un pochino le ginocchia. Lascio cadere giù le braccia. Su, 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 ripeto di lato. Giù. L'ultimo. Su le braccia. Allungo. Su, 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 su. Vado di lato. Torno. Torno. Un piccolo piegamento. Ginocchia dritte, mani alle spalle incrociate. Tiro su il mento. E, braccia dietro. Braccia dietro. Braccia dietro. Di nuovo. Piccolo piegamento. Su. E, dietro. 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 E, braccia aperte. Adesso, proviamo con la mano a prendere il ginocchio contrario. Uno. Due. Potete fare una torsione del busto. E, ancora. Ancora. E, stop. Respira. Allungo. Allungo. Lascio. Allungo. Lascio. E ripeto. E, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Stop. E allungo. Su. 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 Lascio. Allungo. Su. 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 Lascio. Chiudo i piedi. E adesso facciamo. Apro i piedi. Chiudo i piedi. Apro i piedi. Chiudo i piedi. Ci mettiamo le braccia contemporaneamente. Su. Su. Giù. Su. Giù. E, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Stop. Benissimo. Passiamo al prossimo esercizio. Cambio unite. Sulle braccia. Di nuovo allungo al soffitto. Alzo i talloni. E alzo i talloni. E alzo i talloni. Scendo con il corpo. Aprendo le braccia. E rimango guardando il pavimento. Braccia sopra la testa. Scendo verso il pavimento. Se riesco tocco con le mani a terra. Piego le gambe. Mento il petto. Torno su. Di nuovo. Sulle braccia. Alzo il soffitto. Alzo i talloni. Scendo. Alzo i talloni. Scendo. Vado in avanti con il corpo. Guardo il soffitto. Braccia sopra la testa. Scendo. Cercando di toccare il pavimento. La testa guarda le ginocchia. Un piccolo piegamento. Salgo su. Divarico un po' le gambe. Braccia aperte. Piccolo affondo. Su. Alzo i talloni. Piccolo affondo. Su. Alzo i talloni. Di nuovo piccolo affondo. e faccio la stessa cosa che ho fatto con i piedi chiusi. Rimango lì. E guardo per terra. Braccio sopra la testa. Scendo giù. E un piccolo piegamento. Stendo. Un piccolo piegamento. Stendo. Vengo su sempre con il mento. Al petto. Di nuovo. Piccolo piegamento. Incrocio le braccia. Su. I talloni. Piccolo piegamento. Incrocio le braccia. su. I talloni. L'ultimo. Rimango lì. Guardo il pavimento. Braccio sopra la testa. Scendo. E. Guardo in avanti. E. Stendo. Guardo in avanti. E. Stendo. Braccio avanti. Spingo le spalle verso il pavimento e il mento verso il petto. Alzo i talloni. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Torno. Con le mani. Piego le ginocchia. Mento al petto. Mi srotolo. Chiudo. Il piede accarezza la gamba. Prendo il ginocchio. E. Lo porto. Al petto. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Lo lasciamo scivolare. Apro. Apro dalla parte opposta. Stessa cosa. Accarezza. E porto il ginocchio al petto. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Lo lascio scivolare. Adesso. Passiamo al prossimo esercizio. Partiamo dai piedi chiusi. Apriamo e facciamolo a fondo. Braccio dietro. Guardo il soffitto. A fondo. Braccio dietro. Guardo il soffitto. Di nuovo a fondo. Giro i piedi. Cercando di portare il tallone della gamba dentro sul palo destro. Schiena dritta. E. Scendo. Se riesco appoggio le mani sul ginocchio. Altrimenti va bene lasciarle a terra. E. Scendo. E. Scendo. Stendo. Torno al centro. Piego le ginocchia. Mezzo il petto. Salgo. E tutto lo ripeto dalla parte costa. Piego. Guardo il soffitto. Piego. Guardo il soffitto. Piego. E. Giro. Spendo. Scendo. Mi raccomando ginocchio allineato al tallone. E. Spendo. E. Scendo. E. Spendo. Torno al centro. Piego le gambe. Mento il petto. Giù le spalle. Torno su quella testa. Chiudo le gambe. Adesso. Mi sposto lateralmente. Facendo. Un incrocio di braccia. Piego le gambe. Mi abbraccio. Braccio. Allungo. Allungo. Torno. E. Stessa cosa. Stessa cosa. Apro. esercizio. 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 Contrazione. Contrazione. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. Benissimo. Allungo. Allungo i piedi sulle braccia. Piedi in flex. Scendo. Cercando di arrivare a toccare le punte. Se non ci arrivo non importa. Posso anche arrivare a toccare le caviglie. L'importante è che la schiena sedia sia dritta. Adesso scendo giù con il collo. Rimango. 1. 2. 3. 4. Incrocio il corpo verso la gamba piegata. Un braccio fa un giro. Dassù. Scendo. Verso quella di terra. Li allungo tutte e due. rimanendo con l'altra gamba aperta. Con il piede attaccato al ginocchio. Tiedi in flex. Tiro. E lascio. Prendo la gamba di terra. La porto giù. Cambio. Torzione. Braccio si alza. Apro la gamba che era piegata. Vado verso il piede di terra. Stop. Piede in flex. Scendo giù. Da lì salgo. Di nuovo prendo la gamba. E scendo. Di nuovo un allungo. Vado giù. Vado giù cercando di toccare le punte di piedi. Mi raccomando. Non incurvate la schiena. Giù le spalle. Schiena dritta. Rilasso. Vado giù. E da qui apro le gambe. Poggiando le mani indietro. Spingendo le ginocchia sul pavimento. Adesso chiudo. E di nuovo le riapro. E apro. E chiudo. Cercando di unire i piedi. E apro. E cercando di spingere le ginocchia sul pavimento. E chiudo. La schiena dritta allungata. Mi raccomando verso l'alto. Apro. E chiudo. E apro. Prendo le caviglie. E cerco di allungare la schiena. Portando le ginocchia verso il pavimento. Bene. Prendo le ginocchia. Porto di nuovo avanti le gambe. Un bel respiro. Cerco di andare dritta, dritta, dritta con la schiena. Prendo le ginocchia fino a giù. Poggio anche i ginocchia sul pavimento. E conto fino a 4. 1, 2, 3, 4. Adesso il flex. 1, 2, 3, 4. Un bel respiro. Giù la testa. Risale sempre attraverso il mento nel petto. Allungo verso l'alto. Apro. Mento alto. E passiamo al prossimo esercizio. Bene. Ci accogliamo sul nostro tappetino. Gambe piegate. Mani alle ginocchia. Schiena dritta. Contrazione. Contrazione. Su. Contrazione. Su. Contrazione. Rimango in contrazione. Lascio le mani. Alzo il mento. Porto le mani sul petto. e adesso salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango. Ristendo le mani. Mi aggancio alle ginocchia. Torno su. E di nuovo. Contrazione. Lascio. Mani al petto. e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allungo. Riprendo le ginocchia. Su, 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 su. Di nuovo. Riscendo. Adesso unisco le mani. Gomiti. Ben lavhi. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno su. Allungo la schiena. Contrazione. Lascio. Di nuovo. Prendo le mani. E ricomincio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno di nuovo su. Porto le ginocchia al petto. Di nuovo. Contrazione. Di nuovo su. Bene. Adesso. Prendo il pacchettino. Io mi metto di lato, così potete vedermi. Facciamo un bel respiro. Scendo. Infilo. Stendo una gamba. Poi l'altra. E proviamo a fare. 1, con il ginocchio verso la spalla contraria. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginocchio. Ginocchio. Mi. Lo srotolo su. Allungo. Allungo. Respiro. E ne facciamo un altro. Scendo giù. Ginocchio. Ginocchio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginocchio. Ginocchio. Giù la schiena. E allungo. Piano piano mi srotolo. Un bel respiro. E ci siamo. Grazie. Bene. Adesso ci muoviamo. Danzando un pochino. Ci giriamo di profilo. E facciamo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Torno. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Lo ripetiamo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Provo un po' di volte veloce. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Bene. Da qui andiamo avanti. Apro la gamba dietro. Giro. Chiudo. Spalla. 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 Quindi. Da qui abbiamo detto. Apriamo la gamba. Giriamo. Chiudiamo. Spalla. 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 Proviamo? Tutto piano adesso. Poi lo ripeteremo un po' di volte veloce. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Gamba dietro. Giro. Chiudo. Spalla. 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 Proviamo a farlo un po' più veloce. 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Adesso. Io sto in silenzio e proviamo ad andare solo con la musica. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora una volta e andiamo avanti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, da qui facciamo apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo e poi abbiamo finito. Lo colleghiamo tutto quanto? Proviamo. E 1. Spalla, 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 apro, chiudo, apro, chiudo. Ancora una volta. 5, 6, 7, 8. Benissimo. Grazie. A presto. Buongiorno. Grazie a tutti.